buonasera buonasera a tutti ben ritrovati nel canale benvenuti in questo video serale dedicato alla prima giornata in erba della stagione 2023 quindi iniziamo ad analizzare un po le partite di musetti e il derby tra sonego e berrettini non prima di avervi invitato a iscrivervi al canale ad andare a lasciare like al video ad attivare la campanella per le notifiche andare sul sito del fantatennis www.fantatennis.net per prendere visione del regolamento per il calendario per intanto allenarvi perché dall'anno prossimo ci saranno alcune importanti e gradite novità che poi vi spiegherò in futuro vi spiegherò a fine di questa stagione ma insomma questa stagione per chi entra ora servirà ad allenarvi per la prossima perché la prossima sarà sarà veramente una stagione interessante e molto più ricca a livello di premi quindi iniziate ad allenarvi ora avrete ancora due chance quelle delle atp finals per quelli dei due dei due slam per qualificarvi alle atp final quindi non perdete tempo già dalla prossima settimana potete iniziare a giocare e ripeto allenarvi per l'anno prossimo perché l'anno prossimo ci sono importanti novità per il gioco del canale detto questo invitato a iscrivervi al canale partita tra musetti e goio e beh dopo diciamo bene bene musetti vince la sua prima partita in erba 76 3 partita tutto sommato il controllo ha rischiato un po nel primo set ha dovuto annullare due palle breccia ma poi tutto sommato ha avuto anche un set point contro musetti ma poi tutto sommato una partita ma sì forse le chance nel 7 le avute più goio ma la partita l'ha avuta abbastanza in controllo musetti a partire dal tie break dove ha fatto il break al quinto punto lo ha tenuto fino in fondo e tanto è bastato poi nel secondo la sicurezza di aver vinto il primo ha fatto la differenza il break è arrivato al quarto game e da lì non c'è stata non c'è stata più storia chiuso al primo match point musetti dopo aver annullato una palla del contro break quindi bene è chiaro che musetti non è un giocatore da erba quindi ci dobbiamo aspettare che si adatti alla superficie però voglio non era un avversario poi così pericoloso non era un avversario che magari fra i top in erba vincere la prima partita in erba comunque aiuta torneo che dove musetti può fare dei punti inaspettati a musetti punti servono quindi vincere vincere sempre importante e alla fine diciamo che secondo set e ho visto un buon musetti oltre a un buon musetti ho visto un buon sonego nel senso che è ovvio che la versione di berrettini e ne parleremo dopo è una versione ai minimi ma è la normale e poi vi spiegherò il perché però ecco io ho visto un sonego che doveva asfaltare berrettini errore clamoroso di boom makers a dare favorito matteo addirittura 238 sonego era veramente un regalo oggi e sonego ha fatto il suo rispondendo bene gestendo bene lo scambio non è che servisse contro questo berrettini fare chissà che cosa e arriviamo a berrettini è tutto normale salvate il soldato berrettini dalle critiche da da gente che già sta cominciando a dire che un ex giocatore tutto ciò che volete berrettini io ve l'ho detto in tempi non sospetti berrettini ha bisogno di partite ha bisogno di tempo per entrare in palla ho paura che questo tempo per il libro non ci sia perché io credo che anche al quince succederà la stessa cosa più o meno che è successa a stoccarda potrà massimo vincere una partita non certo di più è un berrettini che è rientrato frettolosamente perché vuole fare wimbledon ma si vede che ancora non è in condizioni le condizioni a matteo servono sette otto partite vi ricordate la strada nuova penna dove fece la tpk e poi arrivò in forma avete visto quando ci ha messo ad arrivare in forma a monte carlo per poi doversi ritirare per infortunio ma insomma per per giocare quella partita che l'avrebbe portato che l'avrebbe portato nei quarti a giocare quella partita dove poi si fece male aveva perso a india wells aveva perso a miami aveva perso nei nei tornei precedenti a matteo servirà del tempo per tornare in forma tempo che gli dobbiamo concedere e io ho i miei dubbi anzi ho quasi la certezza che matteo non ce la farà ad essere in forma per wimbledon se così dovesse essere nessun dramma è tutto maledettamente previsto nel senso che non aver fatto ero langarossa la stagione sull'erba è una stagione di tre settimane e matteo io spero che possa al 15 giocare anche il doppio per avere una partita in più matteo che non basterà nel senso che a wimbledon matteo sarà questo matteo forse il vero matteo lo rivedremo con il cemento americano con toronto con cincinnati e forse con gli australian open si gli open scusate l'obiettivo di matteo deve essere essere in forma per per new york perché non ha adesso partite per poter far bene sull'erba che la sua superficie sebbene avete visto gli ultimi 23 game berrettini era più in partita è chiaro che la partita era andata è chiaro che l'avversario era aveva due break di vantaggio quindi gli bastava amministrare però berrettini era più centrato nella partita cioè nella stessa unica partita vista abbiamo visto che dopo un tot di tempo di gioco la situazione è leggermente anche si può far festa ma è leggermente migliorata probabilmente con un po di allenamento con magari un turno di doppio la situazione di poco ma migliorerà anche al quince però non sarà assolutamente sufficiente a difendere questi 750 punti 250 sono già andati che servono a matteo per restare in alto in classifica quindi ripeto l'obiettivo per matteo berrettini è presentarsi in forma se non a toronto eh almeno a cincinnati e agli us open diciamo che toronto e cincinnati sono eh mille eh attaccati di una settimana quindi eh se non sei in forma a toronto è piuttosto difficile che tu lo sia anche a cincinnati diciamo che l'obiettivo è us open è avere il miglior matteo a fine agosto questo è l'obiettivo se eh mattei se la versione di di agosto di fine agosto di matteo fosse questa beh allora potrebbero iniziare i seri problemi e potremmo iniziare a preoccuparci io non sono assolutamente preoccupato della prestazione assolutamente negativa di eh di matteo berrettini perché come vi avevo detto negli altri video me lo aspettavo e eh e io sono convinto che lo dobbiamo aspettare e gli dobbiamo dare il tempo che merita perché berrettini è uno che comunque ha fatto la storia del tennis azzurro è uno che ci ha che ha portato il tennis azzurro in finale a Wimbledon e che ha avuto una marea di infortuni e che quindi ha diritto di essere aspettato ha diritto di essere aspettato ha diritto di perdere le sue partite post infortunio ha diritto di scendere in classifica senza subire critiche eccessive certo è ovvio che oggi non si può dire che sia stato il miglior matteo è ovvio che oggi piange il cuore vederlo massacrato da da sonico che per carità migliorato tantissimo ma sull'erba non può dare sei uno sei due a matteo però dobbiamo avere la pazienza di aspettarlo e l'onestà di criticarlo fra due mesi matteo berrettini eh eh il vero matteo berrettini lo dobbiamo vedere fra due mesi a metà agosto non prima perché prima purtroppo ripeto sull'erba non ci sono partite utili l'australian open lo puoi preparare con la tpk dove hai tre partite garantite con il doppio son 6 con qualche altro torneo diventano 7 8 a matteo per giocare 8 partite devono passare questi tre tornei in erba più wimbledon più probabilmente qualche torneo sulla terra conto di avere berrettini in forma a toronto nella peggiore delle ipotesi conto di avere berrettini in forma agli us open prima tutto ciò che farà di meglio di qualche partita vinta e di qualche partita vinta vi parlo che a wimbledon se passa due turni è un lusso perché questo matteo a wimbledon se trova un giocatore niente niente che sa rispondere al suo servizio probabilmente può anche perdere al primo turno e non ci sarebbe assolutamente nulla di di tragico quindi abbiate e dobbiamo avere pazienza perché matteo è un diesel che troppe volte ha avuto il motore rotto e troppe volte ha dovuto cambiare il motore cerchiamo di avere pazienza su sonaco e musetti auguriamoci che possa essere il torneo che li che li mette in palla su erba chiaro è un 250 quindi un torneo assolutamente alla portata è un torneo che dove si può fare strada dove dove se si gioca bene si può arrivare fino in fondo i punti servono i punti su erba servono prepararsi a wimbledon è fondamentale domani vediamo come va il rientro di sinner anche qua dovesse vista la vista la situazione vista è chiaro sinner è un po diverso perché sinner non viene da infortunio ma il primo torneo in erba è sempre un torneo da prendere con le molle la prima partita è sempre una partita da prendere con le molle sinner parte favorito ma dovesse perdere niente drammi l'obiettivo di sinner e wimbledon mentre l'obiettivo di matteo ve lo ripeto sono gli us open quindi non sparate c'era un cartello nel far west non spia non sparate sul pianista ecco io vi dico non sparate su matteo perché perché non se lo merita e perché deve avere il tempo che gli serve che possono essere questi due mesi per poter entrare in forma agli us open poi agli us open si tireranno le somme e si vedrà se la preparazione se il miglioramento è tale da aver raggiunto un livello è chiaro anche il tabellone di us open uscendo dalle teste di serie rischierà di essere impossibile quindi bisognerà vedere anche un po che tabellone capita ma bisognerà vedere anche la prestazione di matteo quindi cerchiamo di essere fiduciosi ottimisti averlo rivisto in campo dopo tutto gli infortuni e tutto quello che ha avuto non è poco speriamo bene domani forza jannic forza musetti forza sonego forza giorgi che è avanti netta nel nella sua partita però la giorgia è sempre la giorgia può cambiare tutto in un amen noi ci rivediamo domani sera un po più più un po più tardi di quest'ora perché è il turno di no di sera lavoro mi farà uscire un po più tardi vi per me vi ci sentiremo per analizzare appunto quello che è successo a livello maschile e a livello femminile a quel punto nel nella seconda giornata in erba della stagione 2023 io vi ricordo di iscrivervi al canale di lasciare like al video di attivare la campanella per le notifiche andate sul sito del fanta tennis perché io tra dieci giorni deposito il regolamento 2024 per lo sponsor avremo un sito che ci appoggerà e insomma saranno sarà una stagione 2024 del fanta tennis veramente veramente interessante grazie a tutti e alla prossima